E' calato il sipario su B-Week, una manifestazione dedicata al mondo del vino che per tre giorni è stata ospitata nello spazio urbano dell'ex mercato civico di Nuoro in piazza Mammeli. Il B-Week ha chiuso la terza edizione del concorso enologico nazionale BINU promosso dalle Camere di Commercio Sardin in collaborazione con l'agenzia Laore, l'associazione italiana sommelier e il comune di Nuoro. Il concorso che ha il patrocino del Ministero dell'Agricoltura è riservato ai vini GT e DOC ed è suddiviso in tre categorie, bianchi e rossi e vini da dessert. Nel 2014 i vini in concorso sono stati 215 provenienti dalla Sardegna, dalla Campania, Veneto, Sicilia, Calabria e Piemonte. Un evento, quello di Nuoro, che è unito al mondo del vino, quello delle degustazioni e dell'artigianato locale. La manifestazione è stata inaugurata venerdì e B-Week ha offerto ai tanti visitatori la possibilità di avvicinarsi ai migliori vini prodotti in Sardegna e non solo. Una ricca selezione dei migliori vini italiani è stata presentata dai sommelier dell'Ais che hanno organizzato delle degustazioni insieme a Slow Food. I visitatori sono stati accolti da un programma che ha previsto un mix di musica e degustazioni di qualità accompagnate dall'ottimo vino. Approfittando delle giornate dello shopping natalizio, tanti nuoresi non solo hanno visitato gli stand allestiti all'interno dell'ex mercato civico. Una novità in particolare ha caratterizzato l'edizione 2014 del B-Week, con le cene d'autore che sono state messe in scena, è il caso di dirlo, da alcuni dei migliori chef sardi che hanno presentato alcuni piatti di loro creazione abbinandoli a vini di qualità. È stato allestito un ristorante che ha permesso degli show cooking, ma B-Week ha messo in mostra anche le produzioni di olio di qualità e il mondo dell'artigianato della provincia, con la presenza di 24 artigiani specialisti in produzioni ceramiche di legno, ferro, tappeti, vetro, ma anche in produzioni agroalimentari.